Ragazzuoli, ciao a tutti, è vero, oggi di notizie non è che ce ne siano particolarmente, anche perché giustamente è pur sempre la festa dei lavoratori e quindi in qualche modo anche dei giornalai, perché spesso e volentieri si parla di questo e non quelli che il giornale in sé te lo vendono perché quello è un lavoro rispettabilissimo e ci mancherebbe altro, ma ci siamo capiti, giustamente si prendono il loro giorno libero, anche perché non sempre le procure tutti i giorni sono disposti a darti del materiale, anche quelle della procura giustamente alla festa dei lavoratori dovranno in qualche modo rimanere a casa, almeno un giorno prima di tornarsi a scanare domani tranquillissimamente sulla Juventus, ci sta, ci sta, sono robe che si sanno, però è uscita una cosa che veramente mi fa abbastanza vergognare di certi tifosi, se posso essere sincero, perché va bene l'arrabbiatura di questo momento della Juventus, se sia in campo che fuori, va bene che un pochino tutti quanti non vediamo l'ora di rivedere la Juventus tornare a vincere, che in campionato non succede dal primo d'aprile e la partita contro il Lecce sarà il 3, quindi di fatto poco più di un mese che la Juventus non vince una partita in campionato e se un mese fa con un ipotetico più 15, facendo un cammino umano, saresti tra virgolette tranquillo per quanto riguarda i discorsi legati alle prime quattro posizioni, nel momento in cui poi fai tre sconfitte consecutive e un pareggio, ti ritrovi a meno, diciamo che cos'è, sei dal settimo posto, potenzialmente una roba di questo genere, contra le altre cose domenica, la partita a Bergamo contro l'Atalanta che potrebbe proprio sancire questo discorso qui, ma non siamo qui a pensare a questo, anche perché l'abbiamo fatto ieri nel post partita, l'abbiamo fatto stamattina e quindi insomma, perché rinfilare per l'ennesima volta il dito nella piaga? Onestamente non ci vedo troppo senso, anche perché il tema che mi fa particolarmente schifo, se posso essere sincero, è quello legato a Mathias Soule, perché innanzitutto vabbè oggi è stato anche protagonista di un piccolo errore da social, perché era iniziata a circolare nel primo pomeriggio un suo mi piace ad un commento con l'hashtag Allegri Out e quindi figuriamoci sia i sostenitori di Allegri che quelli che non vedono l'ora che si scavi dai maroni hanno particolarmente sottolineato l'evento. Lui poi su Twitter, ma anche rispondendo ai vari commenti su Instagram, ha detto che non l'ha fatto apposta e onestamente posso capirlo, spesso e volentieri a me personalmente mi è capitato di lasciare un mi piace, una roba di questo genere che non volevo minimamente lasciare. Fa parte dei social, ecco, chi è un pochino pratico nel senso che spesso e volentieri su un social network capita alle volte di cliccare. Per sbaglio poi, certo, se sei un giocatore della Juventus e per sbaglio metti mi piace ad un commento dove c'è scritto Allegri Out, in questo momento poi figuriamoci proprio putiferio, si scatena il panico più totale, cosa che effettivamente è successa, ma non è neanche tanto questo il punto, perché per me quella lì è una roba chiarita, ecco, io credo abbastanza alla dinamica degli eventi più che altro perché mi è capitata anche a me e nel senso succede, purtroppo succede. L'avesse fatto con un altro commento non se ne sarebbe accorto nessuno, l'ha fatto ad un commento con scritto Allegri Out, apriti cielo. Poi ognuno può lasciare il beneficio del dubbio e ci mancherebbe altro, però la cosa inerente a Mattia Soule che mi ha fatto veramente tanta tristezza da parte di certi tifosi sono i commenti, tanti commenti che gli sono stati lasciati ieri sul suo profilo Instagram, tra l'altro sotto la foto di Napoli Juventus dove tra l'altro ha fatto una bella apparizione, una prestazione dai, che ci stava considerando anche quello che era il valore dell'avversario e non osi immaginare cosa sarebbe successo qualora avesse postato ieri una foto di Bologna Juventus, soprattutto poi dopo l'errore. Ed è bastato così, è bastato così, perché appunto si leggono tra i commenti robe di questo genere dove si arriva con una facilità anche proprio disarmante all'insulto, all'odio, perché spesso e volentieri proprio trapela dell'odio nei confronti di un giocatore che per l'amor di Dio ha fatto un errore grossolano, ha fatto un errore importante che presumibilmente ti conta due punti in meno in classifica. Siamo totalmente d'accordo e anche a me ieri nel post partita è venuto a dire cazzo adesso facendo la premessa del non è che deve essere messo in croce perché per l'amor di Dio, anzi sulle credo abbia dimostrato di avere delle qualità e la Juventus deve obbligatoriamente continuare a puntare sul ragazzo perché potrebbe togliere alla Juventus stessa diverse soddisfazioni, indubbiamente. Però è normale no? A caldo dieci minuti dopo l'errore se ti metti davanti alla telecamera ci puoi stare che dici cazzo va bene però fai una prova contraria, sei un attaccante professionista che da 5 metri praticamente sul tuo piede non c'entri nemmeno la porta e la tiri alla luna. Ma è una roba che nasce e finisce lì. Ci sta il rammarico per non aver portato a casa una partita che si poteva tranquillissimamente portare a casa vedendo le quantità di azioni pericolose offensive prodotte dalla Juventus contro il Bologna dove tanti giocatori si sono mangiati diversi gol solo davanti alla porta con tanto di rigore che accora veramente. Solamente a pensarci mi fa venire i brividi e anche oggi per sdrammatizzare un pochino ho messo nelle storie di Instagram Milic che fa un salto della Madonna scrivendo e tamberi muto perché effettivamente ha fatto una roba abbastanza di quel genere. Però mi sembra un pochino esagerato accanirsi in questa maniera nei confronti di un ragazzo del 2003 che rimane pur sempre alle sue prime esperienze con la maglia della Juventus una maglia che pesa tremendamente tanto e che è vero che ogni qualsiasi minimo sbaglio è amplificato rispetto magari ad un ragazzo del 2003 della Cremonese del Verona dell'Empoli ma anche magari della Fiorentina perché magari lì i ragazzi si possono permettere un pochino di più di sbagliare di far l'errore di far la cappella che comunque fa esperienza ma davvero leggere degli insulti delle offese non devi giocare più in serie a smetti col calcio perché sei una pippa poi vabbè quelli che bestemmiavano perché hanno perso le schedine che da un certo punto di vista quelli li capisco anche però nel senso anche meno magari no se lo scrivi pubblicamente fai anche una figura di merda neanche proprio da poco conto c'è un odio nei confronti di un ragazzo che è successo purtroppo è successo e spero farà tesoro di questo errore ma quello è quello è anche perché qui vedo che tutti si mettono in prima linea quando c'è da accusare un giocatore perché ha sbagliato un gol per quanto semplice per quanto si potesse indubbiamente far meglio e siamo completamente d'accordo poi però magari sono proprio gli stessi che di fronte ad altri problemi di fronte ad altri errori ben più che evidenti sempre meglio voltarsi dall'altra parte anche perché altrimenti dovrei fare una critica a chi mi piace e a chi nei confronti di chi deve essere sempre comunque difeso a parte che non funziona neanche proprio tanto così se dobbiamo essere no anche sinceri ma poi che cos'è pretendiamo una juventus che punti sulla linea verde anche insomma perché avrebbe la possibilità di risparmiare un pochino con la possibilità di costruirsi in casa dei talentini anche grazie all'ottimo lavoro che sta facendo montero in under 19 e al lavoro della next gen che nelle ultime stagioni ha portato diversi giocatori a giocare in campionati professionistici di serie a o di serie b alcuni dei quali anche proprio alla juventus sulle il in junior barrennecea miretti fagioli con quindi la possibilità di crescere i tuoi ragazzi con l'augurio in un futuro di averli nella prima squadra della juventus magari anche proprio in un ruolo chiave per consacrare definitivamente il progetto under 23 che comunque sta iniziando a dare dei frutti abbastanza importanti poi però quando magari questi giocatori fanno lo step finale diciamo che è quello della prima squadra della juventus dato che l'obiettivo sulla carta dovrebbe essere proprio quello lì rendendo sostenibile anche la prima squadra della juventus quando magari fanno delle partite buone non va comunque bene perché ovviamente metti no sulle alla destra argentina ci si aspetta sin da subito di maria prime messi prime quel giocatore no che potrebbe tranquillissimamente giocare nel barcellona di guardiola del 2009 senza dargli la possibilità di crescere di maturare di capire un attimino perché penso sia anche importante il salto che si fa dalla serie c alla serie a però magari dopo qui sbaglio io e ci mancherebbe altro e poi al primo errore tutti quanti pronti a crocifiggerli tutti quanti pronti a metterli in croce tutti quanti pronti a chiedere di non vedere più quel determinato giocatore con la juventus insomma non penso funzioni proprio così poi se in estate la juventus valuterà che ancora il giocatore non è ideale per essere un giocatore importante o con tot minuti con la prima maglia della juventus o ci può stare sono ragionamenti che si fanno magari se pensi che facendo un anno in serie a facendo un anno in serie b in una squadra che lotta per salire il giocatore poi nella stagione successiva possa tornare pronto come potrebbe essere no il caso di fagioli con la cremonese ci sta va bene è comprensibile è condivisibile e va bene però da metterli poi subito tutti quanti in croce per un errore per quanto importante per quanto magari si potesse decisamente far di più anche no anche no infatti è per questo che mi vergogno di questi tifosi perché poi soprattutto in un momento come questo qui dannatamente difficile cazzo un 2003 i giovani dovrebbero essere la speranza il futuro quelli in grado di alimentare un fuoco che si sta piano piano spegnendo invece no subito pronti a sentenziare immediatamente dopo il primo errore importante dopo due tre partite no poi però si chiedono i giovani poi però si chiedono i giovani si chiedono i giovani ma senza aspettarli c'è uno giustamente deve essere non lo so un ibraimovic prendendo uno dei giocatori più maturi della serie a anzi l'ibraimovic prime subito adesso il ragazzo ragazzo magari di 18 anni che ancora un pochino si deve formare che magari può dimostrare da avere delle capacità delle qualità che potrà essere in un futuro magari anche breve un giocatore fondamentale però si pretende tutto subito e al primo errore cose di questo genere e se posso dire la verità mi fanno anche abbastanza schifo voi fatemi sapere la vostra io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao 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 ciao